Lavori con colleghi o clienti italiani? Se la risposta è sì, allora sono sicuro che avrai avuto almeno uno di questi problemi. A volte ti senti bloccato durante i meeting in italiano con i tuoi colleghi e non riesci a esprimere la tua opinione. Oppure quando viaggi in Italia a volte non riesci a parlare con le persone locali e ti mancano le parole. A volte quando ti trovi in un gruppo di persone italiane ti perdi nella conversazione e non riesci veramente a seguirla. Se anche tu hai o hai avuto questi problemi non ti preoccupare, non sei il solo. Il corso di quest'anno ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di professionisti come te che hanno avuto gli stessi identici problemi. Per questo motivo ho creato il Worldplace Italian Speaking Club, un corso di gruppo di otto settimane che ti aiuterà a superare le barriere linguistiche e a migliorare le tue capacità di conversazione in italiano. Ogni settimana ci incontreremo in un piccolo gruppo di massimo sei studenti e faremo una lezione interamente incentrata sulla conversazione in italiano. Insieme parleremo della cultura lavorativa italiana, come presentarsi a colleghi o clienti italiani, come negoziare in italiano e così via. In questo modo avrai l'opportunità veramente di usare l'italiano in un piccolo gruppo fatto di professionisti del tuo stesso livello. Se anche tu vuoi iscriverti non hai molto tempo, solo pochi giorni, quindi clicca subito sul link che trovi nei commenti e segui tutte le istruzioni. Ci vediamo al corso, ciao!